Buonasera cari amici di Toscana Sprint, le immagini che state vedendo provengono da Capannori, la provincia di Lucca, per la prima giornata della due giorni organizzata dal gruppo sportivo Capannori con le prove contro il tempo, la prima crono città di Capannori, insomma con esordienti maschi, allievi al maschile, poi esordienti femminili e allievi femminili. È solo la prima delle due giornate, come detto, che ha deciso di organizzare il gruppo sportivo Capannori di Gabriele Matteucci con tutta la sua squadra, con l'aiuto ovviamente del comune di Capannori che quest'anno festeggia anche il bicentenario perché è nato nel 1823, questo che state vedendo è il vicepresidente della società del gruppo sportivo Capannori, Daniele Nesti, è presente, come abbiamo visto, è stato il partito Tanzilli, l'atleta dell'Avaiano, primo atleta a partire per quello che concerne la prima prova, questo che parte è Andrea Castrucci del team Valdinieva, l'abbiamo visto presente anche Saverio Metti e anche queste immagini fanno vedere il presidente del comitato provinciale lucchese Pierluigi Castellani. Partito ora Montella, altro atleta, occhio perché a Lucca Montella ha un bellissimo ricordo perché proprio organizzato dal Capannori riuscì a trionfare nella prima gara della stagione, quindi sono venuti giù quando vengono giù dalla Campania, gli atleti campani quando vengono su fanno sempre bene, tra l'altro il team Cesaro con il gruppo sportivo Capannori ha un bellissimo rapporto perché già nel 2021 era riuscito a cogliere il successo nella prima gara organizzata Gabriele Matteucci e i suoi collaboratori. Intanto andiamo a prendere anche nel dettaglio il corridore del team Cesaro, Andrea Montella, per vedere anche la sua pedalata, diamo anche alcuni tempi che fin qui miglior tempo in questo momento per Duccio Menici del team Valdinievole, 8'34 e 81 per lui, quello che state vedendo invece è Mattia Gastasini, ricordiamo questa è la prima prova di questa giornata che si svolgerà con le prove contro il tempo e vedrà poi domani con le prove su strada con le assegnazioni dei campionati provinciali per i maschi, campionati provinciali lucchesi e campionati regionali su strada per al femminile più il trofeo rosa perché è anche tappa del trofeo rosa. Tanti ovviamente anche gli sponsor di questa manifestazione, intanto c'è l'arrivo in questo momento di un atleta dell'Olimpia Valdarnese, questo invece nel dettaglio è Gabriele Gabrieleschi, intanto diamo anche il tempo di Andrea Montella del team Cesaro, tempo di 9'5, per ora resiste il tempo di Duccio Menici, anzi no perché Mattia Gastasini dell'Unione Ciristica Empolese fa segnare 8'34 e 75 e quindi per lui in miglior tempo il corridore dell'Unione Ciristica Empolese, quindi per ora il miglior tempo è il suo. Nel dettaglio vediamo Joel Gabrieleschi, sicuramente una delle note positive della formazione livornese che sta facendo tanto bene in questo inizio di stagione e questo che stiamo vedendo è Riccardo Frosini invece. Altro atleta ha piazzato nella gara di Casal Guido organizzata dalla Polisportiva Mille Luci dove è riuscito a piazzarsi alle spalle del vincitore, la Erte Scappini, gara unica anche domani, domenica sarà gara unica. Dicevamo degli sponsor della manifestazione di questa giornata come la Idea, Studio Tecnica, la Vangi, la Berti Sport, i supermercati MD, la Tweet, la Tambellini, il ristorante Fiorino, il bar, il Forino, la Marfisa, la Gelateria Emma, il del Nista Divo, intanto c'è l'arrivo in questo momento, Maglia della Veloclub Scuola Ciclismo Empoli che è arrivato in questo momento, la Bres Basia del Cannone, con 9.44, intanto siamo dietro alla Erte Scappini, uno dei favoriti quest'oggi, sicuramente, eccolo nel dettaglio, già vincitore di tre gare quest'anno, la Erte Scappini, vedremo come chiuderà la sua prova, è uno, abbiamo detto, dei favoriti, ma occhio perché c'è uno dietro che è ancora imbattuto, si tratta di un certo Riccardo Longo, vedremo tutti curiosi di vedere la sua prova. Questo è Andrea Mori della formazione della Donoratico, vedremo che cosa riuscirà a fare anche lui, abbiamo visto che viene fuori da diversi piazzamenti, anche lui un inizio di stagione molto promettente, piazzato secondo posto alla gara di apertura organizzata dal gruppo sportivo Capandoli, proprio a fine di marzo. Intanto diamo i tempi di Gabrielleschi che fa segnare 8.55, quindi per ora esiste il primo posto di Mattia Gastasini, davanti a Duccio Menici, che è in questo momento in seconda posizione, vedremo anche quello che sarà, ed eccolo qui, Riccardo Longo, lo aspettavamo, lo abbiamo aspettato, siamo curiosi di vedere come chiuderà la sua prova il corridore del Team Serio, 12 vittorie stagionali per lui, ancora imbattuto, corridore imbattuto. Vediamo che cosa succederà, intanto diamo anche il tempo di Andrea Mori, tempo di 8.43.65, è dietro quindi per ora al podio, invece dobbiamo dire che va a prendersi la prima posizione la Ertescappini della 8.16.47, ma ragazzi, questo ragazzo è veramente forte, veramente forte perché Riccardo Longo, miglior tempo, 7.54, che tempone che fa segnare, tredicesima vittoria stagionale per Riccardo Longo che va a prendersi questa vittoria. Andiamo alle interviste, mentre vediamo ancora la chiusura di altri atleti, andiamo alle interviste di rito. Siamo con Riccardo Longo del Team Serio, un grande momento di forma per te, probabilmente una crono che ti è piaciuta sin dall'inizio, hai pensato a spingere i sui pedali e alla fine è giunta questa vittoria? Sì, sono contento, ho cercato di tenere un po' di energie per il rettilineo dopo la curva là in fondo, gli ultimi 3 km volevo farli a tutta per cercare di guadagnare, mentre i primi chilometri li ho fatti non a tutta per tenere un po' l'energia per l'ultimi 3 km e sono riuscito ad andare costante, sono contento. Siamo con il duo dell'Unione Silistica Empolese, la Erte Scappini e Mattia Gastasini, un periodo molto buono per voi, parto da te la Erte, avevi fatto veramente un tempone, fino a poco eri davanti, quindi un percorso che è una prova a cronometro che ti è piaciuta? Sì, più che altro, era una delle mie prime crono e non sapevo molto come gestirmi, però arrivato al traguardo mi sembrava di aver fatto una buona media, però nel percorso all'inizio ho ritrovato un po' di vento e poi le buche non mi hanno molto aiutato perché con i cambi di traiettoria, però mi ritengo soddisfatto per quello che ho fatto. Ecco Mattia, passa a te, altro podio ovviamente da incorniciare anche per te dopo quello anche di domenica, avete sfiorato la vittoria, comunque anche a te questo nonostante un po' di caldo comunque sei riuscito anche a te a fare una grandissima prova? Sì, perché poi quando sono partito sul tratto per andare verso la curva dove si ritornava indietro ho affrontato molte buche in cui a volte mi è saltata l'Atena, però ho avuto fortuna e mi è subito rientrata e poi ho sbagliato la curva in fondo perché non l'ho allargata ma l'ho strinta.